Allora, buongiorno a tutti. Siamo qui due membri del team di Singularity University Milan Chapter, Saverio e Riccardo, che oggi in maniera, non diciamo straordinaria, ma sicuramente singolare, visto che parliamo di singolarità, intervistano David Orban. Sappiamo bene chi è David Orban, un esperto di official studies, un innovatore, un futurologo e advisor e faculty di Singularity University. Il 24 settembre ci sarà la presentazione dell'edizione italiana presso i tipi di apogeo di La Singularità è più vicina, l'ultima fatica editoriale di Ray Kurzweil. Sappiamo che Ray Kurzweil scrisse un best seller nel 2005, La Singularità è vicina e finalmente abbiamo il sequel di questo grande libro di futurologia. Per chi non lo sapesse, Ray Kurzweil è una leggenda nel campo di official studies, perché diciamo che ha azzeccato più dell'85% delle sue previsioni e quando qualcuno gli fa notare che il 15% non si sono realizzate, lui dice perché ancora non si sono realizzate. Ora, io e Riccardo abbiamo letto la prefazione che David Orban, qui presente, con cui ha impreziosito l'edizione italiana di La Singularità è più vicina. Ci siamo permessi di preparare e quindi poi porre alcune domande a David su questo nuova fatica editoriale di Ray Kurzweil. Ora, non so, Riccardo vuoi partire te, vuoi che parta io? Assolutamente sì, se vuoi parto io molto volentieri, colgo l'occasione per salutare David e per salutarti Saverio e parto subito con la prima domanda per David ovviamente. Allora David, nel suo libro Kurzweil parla della legge dei ritorni acceleranti e quindi del progresso del progresso esponenziale delle tecnologie in buona sostanza. Ecco, a tutto questo, come possiamo prepararci per gestire appunto l'impatto sociale e anche economico ovviamente che questi cambiamenti potrebbero appunto avere e potrebbero essere appunto anche dei cambiamenti rapidi e anche radicali. Questa è la prima domanda David. Grazie Saverio e Riccardo per avermi invitato. La tua domanda è importante perché i cambiamenti che vivremo nei prossimi anni e in base alle previsioni di Ray Kurzweil sono senza precedenti. La differenza è sia di qualità che di quantità rispetto a quelli che abbiamo vissuto in passato. La qualità è che avranno un impatto globale e che abbiamo la capacità e quindi la responsabilità di prevedere e cercare di gestire. La differenza di quantità è appunto per la rapidità con cui questi cambiamenti avverranno. Sono cambiamenti guidati dalla tecnologia e la partenza delle analisi di Ray nei suoi vari libri e quindi come la tecnologia è alla base di quelle che sono poi le conseguenze di cambiamenti economici, sociali e via dicendo. Le da accumularsi in modo sempre più rapido, sempre più importante, non in una maniera lineare ma appunto in una maniera esponenziale. La classica sequenza che non è 1, 2, 3, 4, 5 ma 1, 2, 4, 8, 16, 32 e chi ama giocare con i numeri è già familiare con il fatto di quanto importante, quanto fondamentale sia la differenza tra queste due sequenze. Noi siamo abituati al miglioramento delle prestazioni dei nostri computer o smartphone e quello che stiamo facendo adesso in modo molto snello di creare, gestire una videoconferenza, registrarne il filmato che poi viene editato e diffuso sulle varie piattaforme di social media. È possibile proprio per quanto potenti siano gli strumenti a nostra disposizione di elaborazione, memorizzazione, comunicazione e tutto questo non sarebbe stato possibile 20 anni fa, 40 anni fa, 60 anni fa. Le cose quindi che saranno possibili con il proseguire del miglioramento delle prestazioni dei nostri computer e cellulari e altre periferiche che utilizzeremo e nuove applicazioni saranno disponibili. Per tornare alla tua domanda, quindi, questi cambiamenti saranno importanti, rapidi, coinvolgeranno tutto il pianeta. Come facciamo a prepararci? Alcune delle risposte che Ray offre nel suo libro sono all'apparenza banali, perché lui parla dell'importanza dell'educazione dell'apprendimento, del fatto che queste tecnologie sono effettivamente disponibili a tutti. Magari partono che sono all'apparenza esclusive e destinate a pochi, ma è un'illusione che dura poco. Se una volta all'inizio degli anni 90 o a metà anni 90 il cellulare era un simbolo di ricchezza urbana, dei cosiddetti yuppie, che andavano in giro magari con una versione in valigetta addirittura ai primi modelli, oppure quei mattoni che gli friggevano il cervello, per quanto erano esagerate le loro emissioni elettromagnetiche, oggi il cellulare ce l'hanno letteralmente tutti, anche le persone più povere. E sarà così anche con gli strumenti a venire più avanzati, strumenti di intelligenza artificiale, interfaccia cervello-macchina e così avanti. E quindi che cosa serve, qual è la componente essenziale? Il capisaldo di queste componenti è il desiderio di sperimentare, il desiderio di capire, il desiderio di attivarsi ed essere coinvolti. All'opposto c'è un gruppo di persone, da capire quanto grande, che resisterà, o per ragioni dogmatiche, o per natura psicologica o comportamentale, o perché semplicemente ha raggiunto i limiti della propria adattabilità. E quindi dovremo capire come strutturare una società e all'interno della varietà delle risposte nelle varie parti del mondo ci saranno soluzioni incompatibili fra di loro, società che quindi possano accogliere quelli che con gioia e curiosità abbracciano il cambiamento e che magari danno supporto oppure tendono ad eliminare dalle opportunità economiche e anche di mera sopravvivenza sociale quelli che invece resistono e dicono non riesco, non ce la faccio, non voglio adattarmi a questo nuovo mondo. E ci sarà una varietà di risposte ed ogni nazione, ogni società, per dire l'Unione Europea, per fare un esempio, dovrà dare una propria risposta su dove trovare l'equilibrio all'interno di questa ricca serie di variabili.